allora di qualifiche belle ce ne sono ma queste sono speciali sono state straordinarie ovviamente non sto parlando di ferrari c'è una grandissima delusione c'è un risultato veramente non voglio utilizzare termini sbagliati ma che sfiora l'imbarazzante sfiora l'imbarazzante perché si era capito da subito dai primi metri diciamo delle prove libere 1 anche se sono state diciamo non hanno avuto senso un po più le due ma si era capito che qui non si è trovato grip sostanzialmente il vero problema questa volta è stato che il grip qui la ferrari non l'ha mai avuto si è capito anche da subito che mercedes avrebbe avuto un grande vantaggio dovuto al fatto a mio parere che ha raggiunto un praticamente la perfezione per quanto riguarda la finestra di temperatura nella quale è capace di esprimere la massima performance ora la cosa veramente incredibile di queste qualifiche non è soltanto il risultato vi dico che onestamente io avrei preferito una una pole position a questo punto con le ferrari escluse di louis hamilton ma george rasse l'ha fatto vedere che quando conta lui c'è è abituato ad esserci apro una piccola parentesi comunque prima di andare avanti mi raccomando sottoscrivete un piano di nord vpn perché ci sono come al solito tante promozioni interessanti con un biennale in questo momento avrete fino a due mesi a fino a quattro mesi anzi gratuiti di piano quindi approfittatene anche perché è un'applicazione è un servizio che funziona su qualsiasi piattaforma su qualsiasi dispositivo ovunque anche con più dispositivi in funzione in contemporanea potrete accedere a quei contenuti di formula 1 che non sono disponibili in italia potrete fare tantissime cose navigare senza essere tracciati in anonimo sarete aggiornati se perdete le vostre credenziali insomma ci sono tanti 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 anzi tantissimi motivi ma ora come se fossi in un video classico dallo studio torniamo a noi perché il risultato della ferrari andrà analizzato meglio naturalmente è stato frutto anche di un utilizzo della gomma non ottimale perché banalmente hanno girato alla fine con gomma usata è stato fatto per provvi motivi non sono convinto tra l'altro anche per quanto riguarda la gestione dell'outlap perché alla fine il problema viene da lì attenzione anche ad un'altra cosa qui stiamo parlando di una ferrari esclusa al termine del q2 ma con un science che se non avesse fatto quell'errore sarebbe comunque finito davanti alle clerk quindi io torno a dire che c'è bisogno veramente per competere a questi livelli altissimi e quando parlo di livelli altissimi mi riferisco in primis a max verstappen c'è bisogno di una perfezione assoluta in tutte le aree non ti puoi permettere colpi a vuoto incredibile max neanche a dirlo lo stesso tempo di di russell mi ha da un lato molto gasato come vi dicevo prima perché è veramente una questione non si non siamo più neanche ai centimetri probabilmente ai millesimi ai millesimi perché la tolleranza poi del la tolleranza del del timing appunto è presa ai millesimi se ci fossero i decimi di millesimi magari avremmo visto qualche micro differenza prestazione incredibile perez appena rinnovato male non ci sono più giustificazioni per lui non ci sono giustificazioni mi dispiace dirlo perché sono sim un simpatizzante di il samilton e vederlo dietro george russell mi fa veramente male al cuore e che dire ho sperato tanto che ricciardo potesse fare una buona prestazione si è visto comunque in queste in queste qualifiche un buon ricciardo diciamo che alla fine la vera sorpresa è stata come vi dicevo prima una mercedes che è impressionante nel momento in cui c'entra la finestra di temperatura e riesce ad ottenere delle prestazioni tra l'altro con una costanza assurda in ogni settore incredibili oggi la differenza comunque l'ha fatta russell su emilton ma il cronometro parla chiaro verstappen poi su verstappen poi su su perez quindi sul compagno di squadra come sempre mi aspettavo un filino in più dalla mclaren non che non sia andata bene ma comunque stiamo parlando di una stiamo parlando di pochi decimi di pochissimi centesimi quindi sicuramente non ha fatto una brutta figura la mclaren e mi è dispiaciuto molto anche se io in realtà pensavo potesse fare paul e mi è dispiaciuto infinitamente vedere leclerc in quelle condizioni dire che è incazzato perché giustamente un pilota dopo aver concluso in prima posizione aver vinto a casa sua con quel pubblico con quella con quella adrenalina in corpo è difficile è difficile lui aveva detto di aver resettato ovvio che sia così non puoi farti prendere dal diciamo dalla dall'estrema adrenalina del momento però io non credo che la ferrari pensasse ad una prestazione di questo tipo domani chiaramente dipende tutto dalla pioggia se dovesse scendere non so se ci sia stato un compromesso per quanto riguarda l'assetto so di per certo o meglio o meglio immagino che per quanto riguarda il passo gara potremmo comunque vedere una ferrari molto più solida di oggi e anche una red bull quindi con verstappen più solida di una mercedes onestamente non vedo mercedes vincere in tranquillità ma spero di sbagliarmi sono la persona che al mondo più spera di sbagliarsi perché abbiamo bisogno di vedere qualcosa di diverso tra l'altro sono giorni di grande caos anche per i nuovi regolamenti 2026 che sono stati diciamo proposti venduti come definitivi con tanto di tantissimi post della fia ma pare che non sia così quindi dietro le quinte succede qualcosa di strano ma anche davanti le quinte ci siamo veramente divertiti è chiaro che l'animo ferrarista oggi non può essere soddisfatto anzi perché passare da un p1 a un p11 12 non va bene ma credo che sia una di quelle condizioni specifiche dove la ferrari non trova appunto una finestra di temperatura ideale e che va abbastanza maluccio come è accaduto in cina speriamo che sia soltanto una parentesi speriamo che di vedere una gara a questo punto non regolare perché una gara non regolare aprirebbe le porte hanno un risultato della ferrari migliore di quello delle qualifiche sicuramente risalirà ma c'è bisogno di qualche evento particolarmente fortunato per vederla per vederla più partecipe per vederla non dico a podio perché sarebbe veramente assurdo ma comunque magari nei primi nei primi cinque